Si fa a lasciare... Oh... Faggio... Hold on... Ma questa è per le mani nude... Mani nude... Mani nude... Sto direi mani nude... Non capisco... Aumentare il 10% di ritiro... Minutabilità attiva... In cambio non puoi eseguire un altro ritmo... Eh? Ma è... Pericolosissima... Cos'è la tua forza? Allora ci stanno... Non i B... D'acqua... E ci sta il ciclope... Il ciclope... That's... Bad business... E' lui il boss... Si... Mamma mia... Quanti danni al kick... Che gli ha fatto... All'anima... Guarda... 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 Ragazzi... Mi sono ricaricato tutto... Perizoma di Ionici Glove Come? Ma era un... Non penso sia un pezzo di equipaggiamento No, era... Un coso Era un... Un materiale Oh, ciao Mi sento un po' sotterraneo Un santuario Il capo Porca... Mi volta un infarto Che me fa? Vuoi questo? E ciao, ciao Uh, ciocca del mago mommio pure Buono Buono così Eh, ma non mi basta per fare il livello Un reona è feroce Che palle E sono usciti 2-3 di roba decente Per mettermi Uh, forse faccio il livello Metamorfo Vediamo cosa abbiamo Confrisce l'onda du... Ah, ma è sempre questa storia Noi siamo, eravamo rimasti qua Arcano dei serpenti Confrisce l'elemento veniva Terminato di abilità attive Eh, ma non ce l'ho Cioè, c'ho luna di sangue E... Contra attacco esplosivo Che poi Luna di sangue yang Luna di sangue yin Semplicemente È un teledasporto Che non c'ha senso Perché Sarebbe... A parte che sarebbe stato più utile Sulle forme vico Queste qua Le forme feroce No? In realtà volevo vedere Qual è il tempismo Contro quell'attacco Della scimmia Uh Il pisti è entrato Con il singolo Contro attacco esplosivo Terminato di abilità Eh, questa può essere Molto utile Magia Oh mio Possiamo potenziare qualcosa Tipo questi Quindi tutte queste cose Le possiamo potenziare Più di una volta Cazzo Ho sta pello Oh Posso fare il livello È vero Aumentiamo magia Così Magia Non la sto usando mai Però voglio aumentare magia Allora Vabbè No, questo Ah, si potenziano e basta Non c'hai Diversi tipologie di Samurai Sempre due Va bene Così Fai offerta Aspetta Devo controllare Se questa è una spada Migliore della mia Può essere utile Obbligatoria di oggetti rari Eh, grazie al cacchio Non mi servono Sennò li utilizzerei Non credi? Tan credi? Chi era Tan credi? Qua siamo alcuni che conoscevo Dove siamo? Ah Guarda un po' dove siamo Ma che stai scherzando? Eh, io non c'ho niente da datare adesso Che te do? Un talismano magari Un secondo Magari se c'è un futuro Mi lo dà lo stesso Mi dà un'armatura più importante Vediamo se lo vuole Yes Ciao cicciolini 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 Veste del mercante No Che pale l'armatura Di quel testa di minchia Non la voglio Ups Meno mare che mi sono parato in tempo Eh, ho riparato il ponte Vuoi venire? Ma c'hai la pelle da tigre Ma che cazzo Non ho capito perché Nobunaga abbia Il doppio spirito O che O perlopiù Perché abbia la tigre Come il secondo spirito Ma vabbè Non mi faccio proprio dettagli Non mi faccio proprio domande Fatto sta Che poi quella non è una pantera Perché è la tigre Trasformata Semplicemente Hanno preso la tigre L'hanno dipinta di nero E basta Quello spirito nuovo Sì ma non ho capito Cazzo devo andare Cazzarola Quanto enorme sto posto Cribbio Non ho mai visto un livello Così grosso al momento Era grosso eh Ma così grosso That's what she said Eh Scusate Ma tutto è infelice Ok Di qua se ma andare avanti Sembra E il fatto che si sta illuminando Di più il funiale Vuol dire che si stiamo avvicinando Al bosso Ok Ma sai che è un umano Il prossimo bosso Oddio Che cazzo vuol dire Ho sentito un elefante Oh oh Ma che stai a scherzare Ma che stai a scherzare Chi è che voleva un elefante Con un muro spirito Bravo Cade nei tuoi stessi fulmini Chiunque stia lanciando Dei fulmini Sta uccidendo Di tutti i propri Leati Ups Mi sembra che mi serviva Quella Quella difesa al culmine Che avevo letto No se devo stare Magari la nue Raga no Seconda volta la nue No L'ultima volta che l'ho affrontato La prima volta che ho affrontato la nue Nel primo è stato un disastro Mi feci massacrare Infatti questo è stato Ascolto sotto Foraggio Allora faccio una cosa intelligente Ah ok Pensavo che potessi prendere Da qua sotto In me c'è una spinta Ce l'ho non mammo di tre fumi Me lo ficco anche volentieri Magia Oh mio Carica Resistenza alla paralisi Diamolo Va bene Ah recupero 17 Recupero tombale Praticamente Funziona che ogni tot C'è la possibilità Di Far sì che lo spirito animale Mi torni dalla tomba La cosa che mi dice Che il mio avversario O è un elefante O è un elefante di servizio Yoshimoto La cosa mi dice che È un umano Che palle Odio i umani Salve E sta lì che beve Dimmi che non sei truccato È truccato Non sei umano No Non sei umano Ehm Dumbo lì è un pochino Troppo grande Per me Dimmi che non ce l'hai Sempre attivo Ma è tipo un potenziamento C'ha le spalle di Nombunaga Ma chi è questo? Higawawa Shoshimoto Eeeh Ok Uoi che fai Monster Hunter Non me ne frega niente In realtà Soffi doppio elemento Perché Che cazzo Ma aspetta Ma questo è quello che Che quando vedi negli anime È sempre il cretino Che sta gioca Con la palla Mi sa che è lui Ho un serpente Dovrei avere del vantaggio Rispetto a te Allora Mi sa che il problema Sorge quando Sì Ma te metti Troppo distante Ma non vorrei di niente Ma mi puzza sta cosa Che è troppo facile Come è Però No C'è qualcosa Che non quadra È stato troppo facile No Non sto scherzando Ragazzi È stato letteralmente Troppo facile O sono sovralivellato Perché ho fatto Tutte le missioni Che manca di che Masaka Yoha Karma Ecco come lo chiamo Cosa peggio Cosa peggio che era Ovviamente folle Ovunaga Mamma mia Ne ha uccise le persone Porca E quindi c'ho L'elefantino Eh Mifrax Ma non spetta a me Ucciderti Ma non spetta a noi Ma fate fermo Non spetta a noi Non siamo soldati Di questa guerra Non spetta a noi Non siamo soldati Di questa guerra Va bene Sei proprio diverso Da William Se vede E' proprio diverso Da William William si sarebbe Mai permesso Di farlo E' proprio Non siamo buoni secondo me Anzi no Non credo siamo proprio i buoni per niente Rokugezo Un trionfo lettrizzato Vai Come elegante lei No non è lei Chi è questa? Nene? Smette di sbavare idiota E' il gatto Quindi noi siamo diventati sei vizietti Ma perché abbiamo in braccio questo gatto? Orribile Oddio La donna è fredda come il ghiaccio No la tetta Che hai aiutato mio fratello Ah Oh cazzo No cazzo Come si chiamava? La sorella Di Nobunaga Scusami 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 E' Chacha Sama? E' Lady Chacha? Sì E deve fare una bella lezione di storia Samurai per avere sconfitto Non mi interessa Se è il samurai Neteo Ichi E' me sa che è proprio lei Ciocca del samurai anche Andiamo usiamola subito Quanta roba Quanta roba Maestro Arciere Ragazzo d'oro Arco del maestro Agere Cappello del maestro Sasu Ah C'ha un set Al di fuori della provincia di Toshimon Toshimon Il migliore arciere di Tokaido Ah Narciere innanzitutto Non va vestito pesante Ma vabbè Ah quasi tutto il set Quasi Si dovrebbe rifarlo Adesso voglio vedere Quell'elefantino Sposta in altra capanna Capanna del samurai Ah E dove lo metti lì? Ma sì Dai Fa cazzo Ha ridotto l'elefante di grandezza No no Vivera tutta la vita Galleria Yokai Vabbè Stanno solo Voglio vedere quelli nuovi Dove stanno? No No Donna bagnante La pari fa in cula Yamamba Yamamba sono conosciuti come Onibaba E Yokai dell'aspetto di Ah Yonibaba Cazzo Un olio Ya An 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 Ya Cazzo Sbattendo gli agitati che si disimbattano La leggenda vuole che Yamamba si maschina da vecchi Dittini E io Favano ci Uccidere col sonno Coltello affilato di cucina Fossero Anziani signori che potrebbero essere Spamati familiari Che questo viene abbandonato Sulla montagna Dai No Brutta cosa Molto brutta Sti anni Vanno rispettati Però cercate di farvi rispettare Anche voi D'anziani Elefante a 6 zanne Assumo la forma di un gigantesco elefante bianco Gli elefanti venivano Stai usati In Tiasi Da Tertanidia Sì Come stimolo di potenza Sì Venivano usati anche Dai Romani E da altri tizi Da gente Era preso a misurare la sua forza Si dice che in paradiso Posso usare gli elefanti Come mezzo di trasporto Anche i buddhisti Bud No Che c'è scritto Bodhisattva Samantab Dara Dara Scusate E Shakra Signori dei Deva Erano Cagli di Cog Si adornavo Da decurazione A due contatti De curazione Sospetto Luce Sezze anni Sospetto Di sugi Puziosi Meno Rishimoto Ritore Da 6 Saiccioro Il suo servitore Più vedere Ma messo di lunga data Ed è saltata la connessione Vabbè Ha Fammi indovinare È brutto Ma è da Toshi Vedi che è lui Ma io in realtà Cialmente In Italia Nessuale Non potente Da tollerare Questa confrontazione Non può Anche lo parlandisce Dal clan Oda L'intenzione D'ottenere Il perdono Di noi Non c'è Ah Ecco Principessa No Voglio di Dobunare Sebbene Soprano Di Cico No Vorrei Il clan Sare Da provincio Odierno Di Gifo Natrimonio Si dice Che Musazzo Sostiene Potenzione Di Nobunaga La Masse Per Il suo Essere Nobile E Coragio De Due Che Sono Nobile Entrambi Eh lo so Durante L'incendio Nella storia Di Nio Si è Trasformata In Una Ryukyuna Oda Nobunaga C'aveva Una Una Nakinata Che Perché Non ce l'hanno Messa Nakinata Come arma Non lo so Due Katane E L'arco Eh Questo È Il figlio Di Il cattivo Del gioco Praticamente È Il figlio Di Saito Dosan Nostro Fratellastro Praticamente Non Fa Vedere La Sorrera Di Nobunaga Sorrera Di No Oichi C'aveva La Volpe Ragazzi C'aveva La Volpe Qua C'è Fatta Se Nome Quadra Vabbè Abbiamo Finito Una Dovevo Andare Avanti Però C'erano Tante Missioni Secondarie Che Livello Era Quella Missione 21 Io sono Al 25 Non Sbaglio La 41 Come È Possibile È Perché Sto Facendo Le Missione Secondarie Vedete che Servono Fare Missione Secondarie Raga Fatevele E E Ma Qua Non Posso Fare Niente Questa Non la Posso Ah L'ho Già Presa Va Bene Niente Spero Sia Uscito Un Video De Cento O Due Video De Cento Dipende Da Quante Inserisco Le Missioni Secondarie O No Più O Meno E Ci vediamo Al prossimo Pai Vi ricordo Bye Bye Bye